Tre feriti al bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Vicenza. Nei pressi di Via del Sole si sono scontrati una macchina e un furgone. Momenti drammatici per gli occupanti dell'auto, marito e moglie rimasti incastrati all'interno del veicolo. Per portarli all'esterno dei mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco. I coniugi feriti sono stati portati all'ospedale dalle ambulanze giunte sul luogo dello scontro. Ferito in maniera più lieve anche il conducente del furgone e anche lui trasportato all'ospedale. La polizia locale ha effettuato i rilievi del sinistro e deviato il traffico.